No tanto, perché ogni allenatore che ho avuto aveva una idea e era quella. Magari se in una rossa più corta, praticamente se c'era bisogno quando uno si infortunava si cambiava, altrimenti era, parlo dell'epoca dell'Atalanta, quando c'era l'epoca con l'Antuono, era difficile perché era una rossa stretta. Però comunque avendo una Fiorentina che lui può girare i ruoli è giusto. E' giusto che lo faccia. Giustamente poi bisogna, come dice German, tenere tutti un po' sulle spine, un po' pronti, altrimenti ci si siede inevitabilmente. E questo è lo bello, che durante la settimana non c'è la formazione certa, quindi arrivare a fine settimana, a venerdì sabato, che giochi la domenica, che non sai se ancora sei schierato in campo, tiene tutti concentrati al 100%. L'allenatore quando vi dice giocherai domenica, sabato o tanto ormai quasi... Ma dipende, dipende, dipende l'allenatore, dipende magari anche in settimana come ti sei comportato, si stavi bene fisicamente o meno. Però comunque dai, venerdì... Il venerdì più o meno lo sai, se scendi in campo dal primo minuto. No, 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 no.